Lavorare il legno è la sua passione, il suo hobby, intagliarlo, intarsiarlo, scolpirlo, per dare vita in particolare a oggetti di un tempo, simbolo della nostra tradizione. Nel museo che Mario Tarka, artigiano in pensione di Mello, ha allestito nel magazzino sotto casa, c'è di tutto. Questo era un porta cucchiai e qua metto giù tutte le mie cosettine. Quanti anni di lavoro ci sono nel suo museo? 16 anni che sono fuori dalla Svizzera, fuori sulla campagna ho fatto poco. Qual è l'oggetto che ha più nel cuore che troviamo nel suo museo? L'oggetto che ho più nel cuore è la caldaia per fare il burro. Questa qua per tirarla giù e per tirarla su, perché quando si è solo ognuno non si riesce a prendere la caldaia giù. Oggi questo è un museo degli antichi mestieri. In realtà questi oggetti lei li ha utilizzati con la sua famiglia quando era giovane? Ma certo, quella gerla, la piccola, stavo pensando proprio stamattina, dico, i giovani si lamentano di tutte le cose, manca questo, non mi è arrivato il telefonino, non va bene quello. Quello lì noi andavamo a scuola fino a mezzogiorno, da mezzogiorno alla una e mezza eravamo liberi dalla scuola. Si mangiava quel pochettino che c'era perché vede le scudelle come sono piccole, perché ne mettevano giù poco, non ce n'era. Poi ti caricavi una gerla di letame e lo portavi su quasi fino a poera. Matarca, al quale piacerebbe aprire il suo museo alle scolaresche, coglie l'occasione anche per fare una riflessione tra passato e presente. Guardare indietro e vedere cosa c'è oggi nel mondo, quasi quasi tornerei indietro. Lei ha detto, realizzo questo museo perché ho la passione per l'intaglio, mi piace lavorare il legno, però in realtà lei vuole metterlo a disposizione degli studenti. Ma certo che se vengono io li lascio vedere tutto e le spiego quello che so.